Ciao a tutti, io sono Aurora, mi piace tantissimo la musica e sono veramente felice di partecipare a questo musical. Sono orgogliosa, ci divertiamo tanto e siamo molto uniti. Come nasce questo progetto e chi sono i magici ruzzanti? I magici ruzzanti sono un gruppo di persone che hanno voluto fare un modo un po' diverso di beneficenza. Abbiamo fatto varie iniziative, le scene, un po' di cose tradizionali, il karaoke anche con voi l'anno scorso. E quest'anno abbiamo voluto mettere su una compagnia che faccia uno spettacolo, che faccia divertire anche noi. Poi in fondo vogliamo essere un po' ruzzanti, magici perché crediamo che la magia sia un modo per affrontare la vita meglio e con più serenità, con più felicità per tutti. Ciao a tutti, sono Michele e non avrei mai pensato di partecipare al musical, però grazie a mio fratello e a Sabrina sono qui e devo dire che ci si diverte molto. In questo spettacolo ci saranno un po' tutte le discipline dell'arte, quindi comunque la danza, la recitazione e il canto ovviamente, quindi il musical fatto da tutti, cioè di ogni età. Ragazzi siete stati, sarete, siete stati, siete fantastici, siamo tutti felicissimi di voi, dovete spaccare! Sono persone che hanno messo tantissimo impegno perché hanno creduto prima di tutto in un progetto, quindi immagino insomma anche un po' lo spavento, la preoccupazione, mesi di prove per impegnarsi a fare qualcosa che per tanti è la prima volta. Il musical di Green! Io mi chiamo Bianca e sono una delle amiche di Sandy e è divertente fare questo musical perché è una cosa nuova e quindi stare tutti insieme è anche una cosa bella. La musica è una cosa importante, parla proprio all'anima, così come il canto, così come la danza, quindi noi per primi non potevamo non credere in questa cosa. Abbiamo deciso di raccogliere questo piccolo fondo a favore della scuola mosaica, che ovviamente è dove insegna il maestro Massimo Nasorri, perché comprerà dei nuovi strumenti magari a questi ragazzi per poter praticare la musica, la musica terapia insomma. Ciao, io sono Leonora, mi piace molto fare musical insieme a tutti i miei amici e mi diverto un sacco. Questo è il primo spettacolo ma poi ce ne saranno altri? E' certo che ce ne saranno altri perché sono sicura che sarà bellissimo, perché ce ne accorgiamo dall'energia che hanno le persone quando poi vedono, abbiamo fatto le prime prove generali qui nella scuola settimana scorsa per provare e vedere come veniva insomma un po' questa scaletta. Ciao, io sono Francesco, sono John Travolta insieme alla mia Sandy, è molto divertente e istruttivo fare questa attività, questo musical, ci fa stare tutti insieme ed è bellissimo. E uno si abitua un po' a vedere quello che ha creato, perché adesso è qualche mese, vero Mario, che facciamo, insomma ci esercitiamo e tutto quanto, però ci accorgiamo le persone, poi lo vedono la prima volta, ovviamente si accorgono dell'impegno che le persone ci stanno mettendo. Ciao a tutti, sono Michele e non avrei mai pensato di partecipare al musical, però grazie a mio fratello e a Sabrina sono qui e devo dire che ci si diverte molto. Questa è una cosa bellissima perché ci stiamo relazionando, sono nate nuove amicizie, cioè nuovi rapporti, c'è proprio relazioni tra le persone, si intrecciano, si sentono, si scambiano i telefoni, si emozionano. Ciao a tutti, mi chiamo Samuele, valo ad otto anni, mi piacciono fare musical e è bello perché siamo tutti insieme, sempre uniti. Quindi è questo poi il vero scopo per cui abbiamo creato la Compagnia dei Magici Ruzzanti. Che cos'è che ti ha fatto divertire di più? Loro. Loro. Non è due! Non è due! Franci!